Buongiorno a tutti, ieri ho avuto riscontro che l'umanità ha ancora gente sana e con l'amore per il prossimo, ecco perché voglio esprimere questa cosa in questo video e pubblicarla perché nonostante tutto nel mondo ci sono ancora persone di cuore veramente e gentili infatti ieri ho incontrato un ingegnere che proviene da Cagliari, fa la spola fra Cagliari e Torino e qui a Roma e niente, si è prestato generosamente per aggiustarmi insomma quelle batterie, insomma quello che è successo alla mia IOL vi ringrazio, lo ringrazio di cuore veramente perché gente come lui ti dà la forza di andare avanti e la speranza del prossimo e facciamo sì che tutti noi possiamo sempre dare il meglio verso anche gli altri perché è giusto che quello che uno semina deve anche raccogliere grazie, grazie di tutto, grazie di cuore